Anche quest'anno Ficilferre è presente al Made Expo di Milano con la propria offerta commerciale. Quest'anno siamo orgogliosi di presentare ai nostri clienti, collaboratori e partner la nostra nuova offerta commerciale denominata EcoCube, un nuovo sistema costruttivo studiato per essere rispettoso dell'ambiente nel massimo del livello del comfort e della risicurezza sismica. Il sistema costruttivo è composto dal meglio delle tecnologie sviluppate dalla nostra azienda, si compone dalle travi reticolari tipo SER e dal nostro solaio Cube ad armatura incrociata. Un sistema costruttivo unico in una proposta commerciale integrata che consente la costruzione di edifici sismoresistenti e rispettosi dell'ambiente.